Buonasera, buonasera a tutte amiche di Vediamoci Chiara e a tutti amici di Vediamoci Chiara, siamo qui in diretta social per parlare di sindrome metabolica, prevenzione e soluzioni naturali e ho invitato qui per voi il dottor Francesco Di Piero, buonasera Francesco. Buonasera a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno infilandosi anche all'ultimo momento. Esatto, allora Francesco, sono molto contenta innanzitutto di essere qui e chiedo però a coloro che ci stanno seguendo in questo momento di farci sapere da dove ci scrivono così da capire se ci sono delle aree d'Italia dove magari può essere interessante andare a fare degli eventi dal vivo. Allora, cominciamo subito, intanto io partirei già con la prima domanda che comunque è una domanda abbastanza di rito, infatti l'abbiamo inserita come prima domanda proprio per fare un po' il quadro delle tematiche di cui parleremmo oggi. E quindi la domanda è cos'è la sindrome metabolica e perché noi donne siamo più soggetti a questa sindrome proprio durante la menopausa? Sai che è uno dei nostri focus, no? Di vediamoci diare il tema della menopausa. Ma è una domanda sicuramente clou, è molto, in realtà è più grande di quello che potrebbe sembrare a una lettura più semplice perché la sindrome metabolica considera che all'inizio la medicina l'ha chiamata sindrome X, questo è il vero nome, dove per X sta per non so cos'è, è per quello che si chiama sindrome X. Allora, identifichiamo nel termine sindrome, quando si usa in medicina, una collezione di elementi, di fenomeni. Quindi mentre una malattia o un sintomo è una cosa ben chiara, quando la mia malattia prende il nome di sindrome vuol dire che questa chiarezza non c'è più ed è più che una malattia una collezione di diversi aspetti negativi. Quindi la sindrome X, che oggi noi chiamiamo sindrome metabolica, dando più questa sottolineatura, no? Il comune denominatore è un metabolismo che salta e in realtà un insieme di cose che si intercettano in una persona leggendo i vari parametri. Per esempio, è caratterizzata dall'avere una forma un pochettino a mela, un panciotto un po' grosso, chiamiamo così. Termini tecnici direi un aumento ingrossato, dove per aumento intendiamo la pancia. Ingrossato di quanto? Un uomo mediamente con almeno 102 centimetri in vita, una donna mediamente con almeno 88 centimetri in vita. Però se quell'uomo è europeo, bastano 94 centimetri in vita. Questo è un primo parametro che devi avere. Un secondo parametro è una leggera, modesta forma di pre-ipertensione, 130 di sistolica, 85 di diastolica. Un altro parametro che potresti avere è avere le HDL, quello che gergalmente o giornalisticamente chiamiamo, che non vuol dire nulla in realtà, colesterolo buono. Quando il colesterolo buono è meno di 40 nel maschio, è me, oppure meno di 50 nella donna, nella femmina, allora questo è di nome un altro potenziale parametro che mi descrive un soggetto con simio metabolica. Un quarto parametro è i trigliceridi più alti di 150 milligrammi decilitro e un altro parametro è una glicemia basale, quindi senza aver mangiato, superiore a 110 milligrammi decilitro. Allora, io ho elencato 5 aspetti. Per avere la sindrome metabolica, quanti ne devo avere di questi 5? Almeno 3. Mediamente il mondo della medicina considera che se tu sei positivo a queste 3 cose che ho elencato, puoi pensare di avere la sindrome metabolica. Volendola raccontare in maniera ancora un po' più semplice, io tendrei a dire che una persona con sindrome metabolica è una persona che è francamente insulino resistente e ha una forma, un fenotipo, un aspetto fisico un po' più a mela, un po' più a tubo. Cioè non è tanto fatto così come sogniamo tutti di essere, ma un pochettino ingrossato nella panciotta, per cui le braccia e le gambe non necessariamente grosse, ma soprattutto un ventre grosso che ti rende un po' a bolla. Ecco, questo è come dire il disegno di una persona con sindrome metabolica. Le donne sono leggermente più esposte, è la seconda parte della tua domanda. Sì, è vero, è una sfortuna, ma perché? Perché la donna ha un percorso personale nella quale viene messa più volte sotto minaccia da problemi metabolici. Ti faccio un esempio per esempio. Pensa alla gravidanza. Nella gravidanza la mamma diventa un contenitore di un bimbo. Ed è costretta, l'evoluzione l'ha costretta, a renderla capace di creare un bimbo di circa tre chili e mezzo di peso e ha soltanto nove mesi di tempo. E il punto di partenza è uno zicote che pesa migliaia di volte meno di un grammo. Come fa la natura in nove mesi a fare questo? Ti infiamma. Ecco che la donna è sottoposta durante quei nove mesi e se ha tre gravidanze, nove per tre fa ventisette, a un insulto metabolico terribile che lei subisce, ma perché deve fabbricare un bimbo. Questo però la predisporrà, è come se per in tre gravidanze, per ventisette mesi nella sua vita, ha preso legnate. Quindi avrà più fratture di un uomo che invece non ha mai subito quel trattamento. Ulteriormente direi la donna è quella che va in menopausa. Quindi a un certo momento della sua vita crollano gli ormoni. Eh ma se crollano gli ormoni estrogeni, quella che noi chimicamente chiamiamo le aromatasi, che sono delle macchine enzimatiche che cambiano un pochettino la storia degli ormoni, trasformandoli da femminili a maschili e viceversa, beh in assenza di ormoni femminili sono potentissimi a caricarti di ormoni maschili. Iniziano a lavorare in maniera eccessiva e questa è un nuovo, è una nuova serie di bastonate metaboliche. Quindi nella donna abbiamo questi momenti che l'uomo non ha, nella quale lei viene insultata metabolicamente dall'evoluzione ed è per questo che metabolicamente è più esposta del maschio a problemi di natura salutistica, metabolicamente parlando. Ti ringrazio Francesco e ti ringrazio anche per le metafore che hai usato, che secondo me sono, chiariscono meglio di tante parole quelle che sono le problematiche che andiamo ad affrontare. Ci tengo a dirti che nel frattempo siamo diventati 1350, quindi grazie a tutti voi che ci seguite. Ecco diciamo tutti voi, perché questa è una domanda che ci arriva proprio da un utente, da un uomo che ci dice ma ne soffrono anche gli uomini? Sì, no ovviamente sì, certamente ne soffrono anche gli uomini, ovviamente le donne sono più sfortunate perché senza volerlo gli uomini devono volerne soffrire di sindrome metabolica, ovviamente c'è una predisposizione genetica, però l'uomo deve... la donna che anche non vuole è comunque parte svantaggiata, ti ho riferito alla fase della vita gravidica di una donna che può essere ripetuta più volte è la fase meno pausale, però ne soffrono anche gli uomini, sì, leggermente meno che le donne, è da un punto di vista statistico, intendo. Certo, ma allora ti faccio una domanda, ci sono aree del mondo dove se ne soffre di più? Tutte le aree industrializzate dove il lifestyle si sta allontanando da quello che dovrebbe essere il lifestyle corretto di una persona, che vuol dire alzarsi presto al mattino, mangiare poco, di tutto, fare continuamente movimento e andare a dormire presto la sera. Siccome più tu ti allontani da questo schema, che è lo schema base che renderebbe Homo Sapiens sano, e più tu rischi la sindrome metabolica. Ovviamente ci sono parti del mondo dove, come dire, l'occidentalizzazione dei comportamenti non è ancora arrivata del tutto, non è ancora arrivata, o non sta ancora arrivando, è un pochettino in rallentamento, diciamo. Però fatta questa eccezione direi tutto il mondo. Quindi vuol dire che nel mondo occidentale è estremamente diffusa, nel mondo che si sta occidentalizzando lo stiamo visualizzando, e più si occidentalizza più la sindrome metabolica accresce di numero, come prevalenza e incidenza, nel mondo che, se ipotizzo qualche sacca, non so, nella foresta amazzonica, dove probabilmente si vive in maniera estremamente poco occidentale, ecco lì la sindrome metabolica tendenzialmente non c'è. è una malattia dell'uomo moderno, dell'essere moderno. Dell'essere moderno, anche dell'essere un po' più ricco, no? Per cui magari possiamo mangiare un po' di più. Certo, perché alla base c'è il mangiare di più. Io tante volte sento dire, quando si parla di mangiare, mangiare bene, dove bene o male, dove si identifica la qualità. Attenzione che la qualità del cibo ha un significato solo se letta dopo il parametro quantitativo. Io posso mangiare anche bene, qualitativamente parlando, ma in regime leggermente ipercalorico e quindi sto mangiando male. Non so, faccio un esempio. Mangiare dei carboidrati a grano antico o a cereali integrali fa sicuramente, è più positivo che non mangiare cereali a farina 00, ma sempre in un contesto di quantità normalizzate e molto ridotte. È chiaro? Certo. Quindi io devo mangiare poco di tutto. Poi alcuni alimenti sono leggermente migliori di altri, ma alla base c'è la quantità, dopo c'è la qualità. Molto spesso tu incontri persone che hanno una dieta sana qualitativamente parlando, ma del tutto sballata quantitativamente parlando. Tu pensa una donna in menopausa, per restare giovane nell'aspetto, dovrebbe mangiare leggermente meno della metà, in termini quantitativi, non parlo di qualità, di quando lei stessa mangiava più o meno a 25 anni di età. Io dico, tu trovami una donna di 50 anni che mangia quantitativamente la metà di quello che mangiava quando aveva 25. Parlo di parametri di quantità fisiologica, se poi quella donna era anoressica 25, questo discorso non ha senso. Parlo di persone che non hanno problemi di natura alimentare. Questo lo facciamo? No. E quindi la sindrome metabolica è menopausa. Certo, anzi, facciamo l'esatto contrario, no? Perché in qualche modo la menopausa ci porta a consumare più zuccheri. Senti, abbiamo un utente che evidentemente si è collegato a Tarni e quindi vorrebbe una sorta di riepilogo dei sintomi principali a cui dobbiamo prestare attenzione. Diciamo, chiamiamoli parametri. Sì, noi definiamo sindrome metabolica una persona che ha almeno tre di queste condizioni. Un girovita 102 centimetri a salire se maschio, 88 centimetri se femmina, una modesta ipertensione a partire da 130 di sistolica, 85 di diastolica, un parametro che è il colesterolo buono sotto i 40 milligrammi decilitro per gli uomini, sotto 50 per le donne, parametro ematico di tre gliceridi sopra 150 milligrammi decilitro per entrambi i sessi e una glicemia basale sopra 110 milligrammi decilitro a digiuno. Quindi questi sono i parametri. Vi ripeto, sappiamoli, sono interessanti, in realtà il concetto è quello di un individuo insulino resistente che inizia ad accumulare grasso soprattutto ventrale. Sono queste le due caratteristiche e l'insulino resistenza accoppiato a un ventre che tende a diventare leggermente sproporzionato rispetto all'altra porzione del corpo. Questa è la sindrome metabolica. Benissimo. Dove per insulino resistenza, non so se avevi intenzione o qualche telespettatore voleva, voleva, puoi chiederci cosa vuol dire insulino resistenza. Io ne sento parlare anche in televisione, ne sento ovunque si legge, però se poi chiediamo a una persona che maneggia anche questo linguaggio e dice insulino resistenza, se ha capito cos'è, secondo me mica tanto. E invece capire cos'è l'insulino resistenza ti apre un punto di vista, un panorama con il quale capire il territorio della medicina molto molto più efficientemente di quanto invece si potrebbe fare. Quindi mi permetto di dirti, mi chiedi che cosa vuol dire insulino resistenza? Sì Francesco, che cos'è l'insulino resistenza? L'insulino resistenza è banalmente la resistenza all'insulina. Il problema è capire cosa vuol dire essere residenti all'insulina. L'insulina è un mediatore che il mio pancreas produce perché vuole pulirmi il sangue dal cibo, perché contrariamente a quanto potremmo pensare il cibo nel sangue è velenoso, soprattutto lo zucchero, è per quello che quando c'è tanto zucchero diciamo diabete, diciamo malattia, perché il sangue non vuole cibo, il sangue deve essere pulito dal cibo, peccato che il sangue è il tramite tra la bocca, l'intestino e le mie cellule. Io mangio con bocca e intestino perché voglio far arrivare zucchero, cibo, alle mie cellule e l'unico modo per metterli in collegamento è il sangue, ma mentre è nella fase bocca il cibo non è pericoloso, quando è nella fase cellula non è pericoloso, quando è nella fase sangue è pericolosissimo. Quindi l'evoluzione cosa ha inventato? L'insulina. L'insulina viene buttata ed è un segnale che dice fate in fretta, pulite il sangue dal cibo e buttatelo dentro le cellule. Questo è l'insulina. Ora, l'insulina quindi è una donna delle pulizie, è un uomo delle pulizie per essere politicamente corretti. Perfetto. Ma se io dico al sangue di pulirsi e il sangue non sente, il sangue resta sporco. Allora io cosa faccio? Grido di più. Mettiamo che sto vocalizzando e sto dicendo pulisci il sangue e tu non mi senti. Io cosa faccio? Alzo la voce. Ho detto pulisci il sangue e tu non senti. E io alzo la voce. Pulisci il sangue. Questa è sordità, resistenza. Non sto sentendo. Ma cosa succede? Che io quando alzo la voce, nella metafora, butto più insulina. Quindi io sono costretto a buttare più insulina di quello che dovevo fare per pulire il sangue dal cibo. Tutta quell'insulina è anabolica, cioè fa crescere. Quindi se tu non ascolti il messaggio insulinico, il pancreas fa più insulina di quella che dovrebbe, lui si esaurisce prima. E il diabete arriva prima, cosa che arriverà in tutti. E tutta quell'insulina che butta continuamente nel corpo, ti ingrossa perché l'insulina è anabolica. I lottatori di sumo si iniettano insulina per diventare così grossi, perché l'insulina rende grossi. Quindi io più ne butto, più divento grosso. Ma io ne butto perché sono resistente, non sento, non riesco a rendere, a far arrivare il messaggio bisbigliando la parola insulina. Quindi il soggetto con simo metabolica, che cos'è? È un soggetto le cui cellule non sentono bene il richiamo insulina, vuol dire pulisci. E quindi il pancreas, pur di salvarti la vita, cioè di pulirti il sangue dal cibo, ne butta di più. I pazienti con simo metabolica sono questo. Questo è l'insulino resistenza. E come si scopre? Perché la simo metabolica non ha, non è che io sento dei mal di testa, sento qualcosa, dovrei andare a fare le analisi del sangue come ve lo raccontate. Come faccio anticipare ancora? Beh, analizzando nel sangue quanta insulina io normalmente butto. Se io normalmente butto più insulina di quello che apparentemente mi servirebbe, quello è un elemento prodromico che mi sta dicendo che probabilmente io evolverò a sindrome metabolica, perché ho già cominciato a gridare di più. Il mio tono di voce è già, insulina! Perché è così? Perché le mie cellule non sentono, quindi ne sto buttando di più. Benissimo, grazie, ti ringrazio anche l'utente che aveva fatto la domanda ecco qui sotto e nel frattempo siamo diventati 1900. Wow. Quindi direi che siamo, siamo in salita, siamo in salita. Allora, ho un'altra bella domanda, ma può essere ereditaria? Sì, sicuramente c'è, c'è genetica, c'è genetica in tutto questo, quindi una mamma con sindrome metabolica probabilmente genererà una figlia che un domani avrà la sindrome metabolica. Però ci sono anche elementi non solo genetici, ma anche epigenetici, cioè quelle modifiche genetiche che avvengono durante le fasi della nostra vita. Quindi una mamma che è in gravidanza di una bambina, mettiamo, e durante quella gravidanza acquisisce più dei canonici 12, massimo 14 chili che dovrebbe acquisire, oppure diventa leggermente ipertesa, oppure evolve a diabete gestazionale, crea delle modifiche e precostituisce in quella bambina che porta in grembo uno stesso percorso. Quindi c'è genetica, io sono costruita per andare in sindrome metabolica e lo trasferirò ai miei figli. Poi ci sono considerazioni epigenetiche, se io durante la fase gravidica rispetto poco o non riesco a rispettare a sufficienza la mia personale salute, le modifiche epigenetiche saranno, come dire, prodromiche a far sì che poi la bambina che partorisco, anche lei più o meno alla mia età tenderà a essere un po' insumo resistente, a rischiare diabete gestazionale o a prendere molto peso in gravidanza e al di fuori della finestra temporale di una gravidanza ad andare soprattutto vicino alla menopausa in sindrome metabolica. Benissimo, grazie, grazie. Quindi la prevenzione della sindrome metabolica comincia in una donna quando resta incinta. È lì che comincia. Per sé e per i figli. Lì comincia la prevenzione. Anche perché facevi prima parlare del fatto che comunque la gravidanza è un grande impegno per la donna e quindi anche questo sicuramente. È già sotto il gioco della malattia metabolica, ma se poi lei ha maggior ragione non tutela se stesso, non riconoscendo che lei è già abbastanza in scacco metabolico, quindi concedendosi più cibo, accettando l'idea di prendere un po' più peso del normale, tutto questo rischio aumenta, dismisura e lo trasferisce. E lo trasferisce, certo, assolutamente. Beh, io ricordo che quando ero piccolo, perlomeno mia mamma mi raccontava, insomma, io compirò 60 anni l'anno prossimo, quindi parlo chiaramente di un tempo abbastanza lontano, però si diceva che siccome eri incinta dovevi mangiare per due, quindi insomma è chiaro che adesso fortunatamente la mentalità è cambiata. Sì, più che mentalità sono i dati scientifici, abbiamo più dati per dire, però ricordi che c'è una logica storica dietro aver detto delle cose che oggi vengono, come dire, sbugiardate. Sai, se noi partiamo di 100 anni fa o di 80 anni fa, quant'era la quantità di cibo a disposizione per tutti? Era mediamente bassa. Quindi ci sta che qualcuno portasse a dire tuteliamo una donna incinta, almeno lei la facciamo mangiare. E come giustifico che lei mangia di più, io mangio di meno? È incinta, deve mangiare per due. Cioè ha una ragione storica a dire. Quindi quando c'è un elemento di carenza, non ce n'è per tutti, l'uomo per fortuna, perché l'uomo è una vera e propria schifezza per certi aspetti, ha come dire, è andato a garanzia, tutela di quella diade, come dire, con più potenziali problemi, più a rischio, più delicata, dicendo sai perché mangia per due, perché è incinta. Oggi che cibo c'è per tutti e abbiamo dati scientifici che ci spiegano le cose, diciamo, no, no, il mangiare normale. Il mangiare normale. È certo. Benissimo, grazie per questa spiegazione perché obiettivamente chiarisce anche, no, un detto popolare che giustamente oggi abbiamo superato anche perché la vita, la qualità della vita è cambiata sensibilmente. Senti, ho un'altra bella domanda alla quale in parte hai già risposto, però secondo me potrebbe essere sempre interessante. Dice, quanto possono influire sulla sindrome metabolica come causa scatenante, ipotiroidismo e menopausa. La menopausa l'abbiamo detto, forse la domanda potrebbe riguardare... Entrambi sono, sì, ma entrambi sono elementi aggravanti perché l'ipotiroidismo, gli ormoni tiroide, tutto serve e tutto funziona nel nostro corpo e tutto funziona bene quando è in equilibrio. Quindi già chiamarlo ipotiroidismo vuol dire non normotiroidismo, no? Ipo vuol dire poco. Certo che se la tiroide funziona un po' meno, ma è ugualmente un problema se funziona un po' di più, eh? Se la tiroide funziona un po' meno, mi perdo alcuni vantaggi della normofunzionalità tiroidea, che sono un buon metabolismo. Siccome l'ipotiroidismo produce cattivo metabolismo, cioè tende a rallentarlo, e siccome la semi-metabolica è una malattia di tipo metabolico, dove io dovrei, come dire, fronteggiarla velocizzandolo in qualche modo, per esempio con lo sport, l'ipotiroidismo è un elemento che purtroppo spinge nella stessa direzione, aggrava la malattia metabolica. La menopausa per questioni ormonali, ma anche per questioni, sai, di natura psicologica. Oggi siamo in grado di, come dire, allevare un mondo di donne più consapevoli, più colte, per cui la menopausa non vuol dire diventare vecchie, come si poteva pensare 50 anni fa. Quindi da questo punto di vista la donna ha fatto un bel percorso, il mondo gliel'ha consentito e l'ha resa, come dire, comunque una donna giovane. In realtà, però, la menopausa è un limite metabolico. Se considera che il metabolismo basale in una donna perde 10 punti, un punto percentuale anno, quindi 10 punti percentuali ogni 10 anni. Il semplice fatto di andare in menopausa ti toglie 20 punti percentuali di metabolismo basale. Quindi è un salto pazzesco al rallentare tutti i metabolismo. Quindi essere in menopausa è un elemento aggiuntivo, assolutamente. E psicologicamente, per quanto la si possa vivere oggi sicuramente meglio, è un invito paradossalmente a mangiare di più, a cercare più calma, pace, soddisfazione nel cibo, negli zuccheri, che sono tutto quello che poi trasforma, aggrava la sindrome metabolica, in realtà. Soprattutto per la parte è panciotta. La prima cosa che succede è l'omento che ingrossa e si infiamma, c'è la zona ventrale dei visceri. Benissimo, grazie, grazie ancora. Senti, ho qui una bella domanda che invece parla, diciamo, affronta già il tema soluzioni e dice questa, per contrastare la sindrome metabolica mi hanno parlato molto bene della berberina. Che cosa ne pensa? Io penso che la berberina sia un ottimo strumento, ma medaglia di bronzo, perché la medaglia d'oro e la medaglia d'argento nel trattamento, quindi oserei dire la cintura nera terzo dan per il trattamento del sindrome metabolica, non sono le sostanze, ma sono il lifestyle, cioè sono assolutamente mangiare in maniera ipocalorica e qualitativamente corretta, quindi vuol dire mangiare molto meno e fare sport. Guarda, ti posso dire senza paura di essere smentito da alcun scienziato nel mondo, che se noi potessimo essere completamente aderenti all'idea di mangiare poco e fare sport quotidianamente non esisterebbe la sindrome metabolica, non solo non esisterebbe, ma la cureresti, cioè una persona che ha la sindrome metabolica la guarirebbe. Guarda che oggi direi medicina guarire è un termine, noi curiamo, non guariamo, guariamo poche cose, eppure ti posso dire che se accetti questa metafora, medaglia d'oro e medaglia d'argento dei trattamenti, cioè dieta ipocalorica e attività fisica, tu guarisci dalla sindrome metabolica. Uno potrebbe dire allora perché non lo vedo, perché forse non è vero che funzionano così tanto. No, la letteratura dice che noi non riusciamo a essere aderenti, cioè ci viene anche proposta, ma noi non accettiamo l'aderenza a mangiare meno e fare attività fisica tutti i giorni, che vuol dire almeno un 50 minuti di camminata molto veloce, almeno tutti i giorni. Magari non è che non l'accettiamo, magari è anche difficile, visto i numerosi elementi culturali di questa società, visto i numerosi e grossi impegni che la famiglia e il lavoro ci impongono. Però attenzione quando facciamo queste domande, perché le domande su farmaci e integratori sono sempre piani B, perché noi il piano A non riusciamo, non siamo capaci o non vogliamo applicarlo. Quindi io voglio che passi questo messaggio, fare dieta ipocalorica, cioè mangiare meno di quello che serve, un po' meno, adeguatamente con l'età e fare attività fisica non cura, guarisce da sinometabolica e per certi versi la letteratura dice che addirittura guarisce, cosa che non fanno i farmaci, il diabete, soprattutto se preso all'inizio. Detto questo, la berberina sicuramente è medaglia di bronzo, perché è un elemento aggiuntivo chiamiamolo un piano B rispetto alle soluzioni ideali, che mi rende insulino sensibile. Abbiamo detto che la sindrome metabolica è un problema soprattutto di insulino resistenza, di corpo che non sente che l'insulina ti sta dicendo pulisci il sangue dal cibo, toglilo, e non sente quindi deve gridare di più. La berberina permette al corpo di gridare un po' meno, quindi parla di più a bassa voce, mi restituisce un po' di insulino sensibilità. Quindi il gettito insulinico si riduce e se io riduco il gettito insulinico tutto questo va a vantaggio, quindi contrasto la sindrome metabolica. Bene, bene, ti ringrazio, ti ringrazio molto, mi è piaciuta questa idea del prima, prima lo stile di vita, prima uno stile di vita sano e poi la, e poi il farmaco o comunque però capirsi su stile di vita sano è perché non ci è una parola che di cui tutti ci riempiamo la bocca ma non abbiamo capito. Stile di vita sano vuol dire mangiare poco, anche un po' meno di quello che ti serve e vuol dire fare attività fisica tutti i giorni, almeno 50-60 minuti. Io sono stato chiaro, netto, quasi talebano nel mio modo di parlare, però attenzione che in cambio di questo, di cioè in cambio c'è tanto. Direi, direi assolutamente. Nel frattempo siamo diventati 2200, grazie amici che ci state seguendo più o meno da tutta Italia, ogni tanto vedo che scrivete, scrivo da Rovigo, da Palermo, quindi grazie. Allora una bella domanda, eccola qua, ce l'abbiamo non so da chi ci scrive perché non si firma questa volta e ci dice gli zuccheri della frutta influiscono sugli zuccheri in generale ma anche sul colesterolo, io ne mangio tanta. Cosa possiamo rispondere a questo utente? Beh, senza dilungarsi troppo, la frutta fa parte di quel costrutto, nel costrutto mentale di cos'è un cibo sano e cos'è non è un cibo sano, la frutta fa parte del cosiddetto cibo sano, perché appartiene al mondo dei vegetali, però le quantità di frutta devono essere modeste, perché in realtà la frutta è un vegetale zuccherino, è come dire la torta nel mondo dei vegetali, se i vegetali avessero potuto fare la torta avrebbero usato la frutta, quindi attenzione che la frutta deve far parte, ma in maniera quantitativamente molto limitata e in un, diciamo, in una persona con sigla etabolica non dico che potrebbe essere evitata, ma, ma sì, dai, lo dico, potrebbe anche essere evitata se io in realtà mi carico di tutto il restante mondo vegetale, quindi la foglia verde, i legumi, è chiaro. Ovviamente siccome si carica molto sulle calorie, quando io mangio zucchero, perché la frutta è piena di fruttosio e zucchero, in realtà ho anche una conseguenza sull'assetto lipidico e quindi anche sul colesterolo. Le due cose, noi tendiamo a pensare che io mangio zucchero, avrò zucchero, mangio proteine, avrò proteine, ma il corpo non funziona così. Noi siamo abitanti di un lungo cammino evolutivo e in questa evoluzione, l'evoluzione è finalizzata a salvarti sempre la vita, questo vuole l'evoluzione, a farti... e quindi ha costruito che se tu mangi zuccheri ottieni grassi, mangi grassi ottieni zuccheri, mangi proteine ottieni zuccheri, cioè il corpo è fatto così. Quindi non vediamola in maniera squadrata, nella misura in cui squadrata non è. Quindi se io mangio, e di nuovo pongo il problema sulla quantità, se io mangio più di quello che mi serve, di qualunque cosa essa sia, io cresco in insulino resistenza, colesterolo, trigliceridi. Questa è la regola da portarsi a casa. Non perché sto mangiando bene, in fondo è un frutto, come per dire se invece mangiavi la torta avevi fatto male. No, è uguale, è uguale perché il primo problema di queste due diete è la quantità. Certo che se la quantità invece è corretta, beh, allora meglio una mela che una fetta di torta, come qualità, perché avrà solo un po' di fruttosio, lì è caricata invece di saccarosio, di panna. Però il problema dell'umanità non è nella qualità, perché la torta è cattiva, la mele è buona, è nella quantità. Ed è difficile accettare questa cosa. Mangiamo mediamente valori sproporzionati. Il valore medio in Italia di cibo, compresi i poveri, è dalle 3.000 alle 3.400 calorie giorno persona. È un numero spropositato. È un valore medio, eh? In America siamo tra 3.400 e 3.800. Non si può dire. Cioè, io spero che questi numeri arrivino. Sono imbarazzanti, ci dipingono un po' come una massa di deficienti, se posso essere un po' pesante con le parole, perché siamo tutti un po' colpevoli. È un valore medio e quindi non è che tutti mangiamo, mangiano in quel modo. Però il valore medio è quello. Dovrebbe essere... Però io ho anche l'impressione che sia andato aumentando questo comportamento. Sì. Per lo meno io ricordo che in passato non eravamo così. No, negli ultimi 50 anni il mondo occidentale, quello occidentalizzato, ha preso mediamente dalle 400 alle 600 calorie al giorno in più di media, proprio sparpagliato sulla popolazione generale. Allora, un'altra bella domanda, questa è un po' provocatoria, eh? Sì. Ma che succede se non cura la sindrome metabolica? Oh, succede un disastro. La letteratura medica sta, eh, chiamava prima la malattia, la sindrome metabolica un rischio, ehm, cardiometabolico. Cioè chi ha la sindrome metabolica rischia al cuore e a tutto ciò che è il metabolismo, non so, il diabete, eh, l'epatosteatosi, no? Poi è diventato circa vent'anni fa un rischio onco cardiometabolico. Cioè chi ha la sindrome metabolica e non la cura rischia i tumori, la malattia cardiologica e la malattia epatica metabolica. Oggi noi diciamo che è un rischio onco, neuro, cardiometabolico. Cioè nelle persone con sindrome metabolica aumenta l'incidenza di tumori, l'incidenza di malattie neurologiche, Parkinson, Alzheimer, depressione grave, eh, infarti, ictus, malattie circolatorie e infine ovviamente la malattia metabolica in generale diabete, epatosteatosi, malattia renale. Quindi ecco cosa rischia. Ha un rischio onco, neuro, cardio, metabolico aumentato. È un rischio, è un rischio, eh, se tu guidi a 200 all'ora non è sicuro che bocci, però rischi molto di più che se andassi a 100, no? Quindi è un incremento di un rischio che c'è sempre in tutti, nessuno è esente da quel rischio, ma diventa estremamente pericoloso. Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Allora, prima parlavamo di berberina e quindi arriva immediatamente una domanda, ma esistono soluzioni naturali o degli integratori? Prima parlavate della berberina, ma esiste anche una versione con la silimarina. Che differenza c'è? Allora, la berberina è un derivato botanico, quindi è una molecola che si trova nel mondo vegetale, in alcuni vegetali. Eh, come tutte le molecole del mondo, che deriviamo dal mondo vegetale, ha un problema. E guardate che questo problema ce l'hanno tutte, eh? Smettiamo di pensare che le molecole del mondo vegetale siano tutte belle, perfette, dorate, non è così. Le molecole del mondo vegetale, anzi, hanno un grosso problema che le accomuna tutte. Quando le metto in bocca, tendono a non essere assorbite. Cioè, paradossalmente, soprattutto mi restano nelle feci e finiscono nel gabinetto. Questa è la nota dolente di qualunque derivato dal mondo vegetale. Ora, la berberina non esente. Noi diciamo, traducendo questo in un linguaggio scientifico, noi diciamo, la berberina è poco biodisponibile. Cioè, quando la metto in bocca, non raggiunge con grande efficienza il sangue e poi non raggiunge le cellule. Allora, la berberina, come dire, manipolata a modi minestrone. Cioè, se io unisco la berberina, un'altra sostanza, e questo arrivo alla domanda di chi ci sta ascoltando, la silimarina, inganna un po' il sistema. La berberina è un pochettino più assorbita. Quindi la berberina, come tutte le molecole vegetali, è poco assorbita. Se la ingoio insieme alla silimarina, la berberina sarà leggermente più assorbita. Se è più assorbita, funziona un pochettino di più. Certo, certo. Benissimo, grazie per questo chiarimento importante. Allora, ecco qua, prima parlavamo dell'attività fisica, no? Dice, il mio medico insiste che faccia attività fisica per contrastare la sindrome metabolica. Quindi è uno che la pensa come te. Cioè, prima di tutto, muoviti, no? No, che la pensa come i dati pubblicati scientifici, non come me. Certo. No, no, ma è certo, è ovvio, è ovvio, è ovvio. Non è il dottor Di Piero, ma è chiaramente. No, ci mancherebbe. La comunità chiaramente, ecco. Ha ragione questo medico. Però a me proprio non va. È necessaria perché? È necessaria perché la cura, la guarigione verso la sindrome metabolica c'è se tu accoppi una dieta ipocalorica all'attività sportiva. Per cui se la paziente rifiuta di farlo, le possibilità di successo terapeutico si riducono drasticamente, a meno della metà. e sarà costretta a fare dieta ipocalorica più farmaci o più integratori. Oppure è una terapia farmacologica ancora più importante. Ricordiamoci che qualunque cosa noi facciamo, in termini terapeutici, è sempre una medaglia a due facce. Noi guardiamo del farmaco, dell'integratore, soprattutto del farmaco, la faccia che ci piace, la parte bella della medaglia. C'è sempre un dietro. Questo dietro sono gli effetti collaterali, la suefazione, la mancanza di funzionalità nel tempo, quella che noi chiamiamo durability del farmaco, cioè quanto durerà la sua efficienza. Quindi attenzione a accettare, a dire beh c'è questo piano B. Il piano B del trattamento farmacologico con integratori deve essere sempre visualizzato come una donna, cioè un' aggiunta per avere la lode quando prendi il voto di laurea. 110 con l'ode, è uguale. Quindi il 110 è fai dieta e attività fisica e poi prendi la berberina in forma complessata con la selimarina o perché no la metformina tra i farmaci, perché quella lì è la lode, ma il tutto funzionerà stragrande con tutti quanti che applaudiranno perché alla base c'è la dieta epocalorica e l'attività fisica. Quindi è ovvio che per fortuna abbiamo inventato integratori e farmaci, ben vengano. Quindi le persone che non vogliono, non possono fare attività fisica sia, come dire, avranno, ricaveranno ancora più valore dalla terapia farmacologica o con integratori. Però se poi mi fate la domanda a me, io dico peccato, peccato perché non potrei prendere 110 lode. Dovrai contentarti che va anche bene in 107. 110 lode si ottiene invece di dieta epocalorica, attività fisica e anche integratori che ti danno quella spinta a essere brillante. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie a chi ci segue anche da Novara. Allora, e quindi capita subito la domanda che riguarda, vedi, il farmaco, dice non vorrei prendere le statine per contrastare il colesterolo alto, perché non le sopporto? Non è la prima persona che si lamenta di non sopportare le statine, eh? Per lo meno che mi capita che faccia domande ai nostri esperti. E quindi dice che alternative ci sono alle statine? Oltre a mettersi a dieta e camminare e muoversi di più. Chiaro. Le statine le prendiamo per abbassare la colesterolemia, ok? Lo facciamo per quello. Quindi quanto impatta sulla colesterolemia totale il fatto che mi metta a dieta epocalorica e faccia sport? Un po', non tantissimo. Fare dieta epocalorica e fare attività sportiva rende molto insulino resistenti, molto insulino sensibili e quindi di conseguenza cura molto la sindrome metabolica. Lo stesso successo terapeutico non ce l'ho veramente sul colesterolo. Infatti nei parametri, nei cinque parametri che dipingono un paziente con sindrome metabolica non c'è il colesterolo. Ci sono le HDL che sono una forma di colesterolo buono, quindi non c'è. Quindi in realtà smentirei me stesso se dicessi una cosa diversa. E questo perché? Perché nel colesterolo più che quello che tu mangi o quello che eventualmente non bruci è quello che il tuo fegato fabbrica e quello è molto genetica. In ognuno di noi il fegato fa colesterolo. Quindi tante volte dieta e sport per il colesterolo hanno un effetto modesto. Non è che non ce l'hanno, però è modesto e quindi noi proponiamo per esempio l'idea delle statine. Però hai ragione tu, hai ragione chi ci ha fatto la domanda. Cioè le statine alcune persone le patiscono davvero. Allora facciamo un distinguo. Alcune persone le patiscono nella testa. Cioè per loro la parola statina è una parola velenosa. Quindi non le vogliono. È scorretto questo. Perché le statine non danno effetti collaterali come la sofferenza muscolare in tutti. Lo danno in molti, più di quanto non dica l'industria farmaceutica. Però non lo danno in tutti. Quindi prima dovremmo valutare se in me danno un problema. Una volta che ho visto che hanno dato un problema ci sono varie scelte. La prima scelta è cambio statina. Ci sono due gruppi di statine. Noi le chiamiamo stratine lattoniche o statine idrossiacide. Spesso una persona è intollerante alla statina ma in forma lattonica. Allora chiedo al mio medico me ne dai una in forma beta idrossiacido? Perché talvolta già questo va bene. Un altro modo è scendo di dosaggio. Alcuni sono sofferenti alle statine perché ne prendono 20 milligrammi. Ma magari a 10 non avrebbero quell'effetto. però a 10 hanno meno effetto sul colesterolo. Allora il piano B è aggiungiamo le zetimibe che statina non è. Invece che prendere una statina prendiamo una statina a basso dosaggio accoppiato alle zetimibe. Il colesterolo scenderà esattamente come tu se potessi prendendo il doppio di una statina ma l'evento sul muscolo non lo sentirai più. Questo è un secondo piano. Poi c'è una terza possibilità è quella di come dire andare a utilizzare degli integratori. Oggi noi abbiamo degli integratori che sono molto efficienti sul colesterolo. Uno di questi l'abbiamo citato anche prima. Per esempio la berberina. La berberina ha un dosaggio adeguato e una molecola efficiente sul colesterolo. Quindi quasi al pari della statina. Molte società come quella europea o americana che si occupano di malattie cardiovascolari hanno già scritto nelle loro pubblicazioni scientifiche che alcuni integratori tra cui la berberina se la batte bene come funzionalità, come efficienza rispetto a una statina. Quindi questa è una scelta. Ovviamente la berberina insieme alla silimarina o con altri elementi che ne aumentino l'assorbimento rende più performante il preparato integratore. Però non è solo la berberina. Penso anche ai fitosteroli e ai fitostanoli. Sono molecole nutraceutiche assolutamente molto efficienti nell'abbassare il colesterolo. Sono meno come dire performanti. Quindi possono abbassarmi la colesterolemia di 20 punti percentuali. Magari non di 30 o di 35 come potrebbe fare una berberina un pochettino più assorbita del normale come le forme come la berberina fitosoma o la berberina con silimarina. Però ci sono degli strumenti. Spero di aver risposto in maniera più che esaustiva veramente alla nostra utente. Sì sì. Tra l'altro guarda subito dopo ne viene un'altra che evidentemente ci chiede notizie del berberol che immagino sia uno degli integratori che contiene la berberina. dice la mia ginecologa mi ha detto che i miei valori di glucosio sono al limite e una sindrome metabolica iniziale. Probabilmente è saltata la palloracoresterolo devo dire da qui. Quindi oltre alla dieta mi ha dato posso integrare con il berberol? Sì il berberol è uno degli integratori probabilmente più famosi in Italia e non solo. Ci sono pubblicazioni scientifiche pubblicate da autori di tutto il mondo che parlano di questo berberol. Ci sono già anche delle meta analisi fatte sul berberon. Quindi autori che hanno analizzato gli studi clinici pubblicati da altri autori e hanno dato un giudizio sulla qualità di quei lavori. Quindi sicuramente è uno dei più documentati. È una copiata tra la berberina e la silimarina. Credo che un telespettatore prima l'avesse anche citato. Certo che se io mi trovo perché che sia la ginecologa o altro professionista medico che mi fa notare che con il glucosio sono al limite che vuol dire sono ho scavallato i cento milligrammi decilito cosa che sarebbe meglio non fare mai. Sarebbe meglio stare a 90 85. Quella è una glicemia di una persona veramente sana. Sì beh quello è un elemento che sta suggerendomi che da lì a poco io rischio di andare verso signometabolica e nel tempo anche perché non ha diabete. E la berberina presente in berberol sicuramente è uno strumento molto efficace nel ritardare questo fenomeno. Non dobbiamo di nuovo prenderci in giro. La letteratura medica parla di storia naturale del diabete. Cosa vuol dire storia naturale? È come dire storia naturale della mia persona. Io nasco, sono poi bambino, adolescente, adulto, vecchio e muoio. Non ci posso far niente. È la storia naturale di Francesco Di Piero. È così. Però la posso, quella non la posso cambiare, ma posso rallentarla o velocizzarla. Se inizio a fare lettilista la velocizzerò, cioè morirò prima. Se invece conduco un lifestyle molto sano la rallenterò. La stessa cosa possiamo fare col diabete. Si parla di storia naturale del diabete. Quindi il diabete viene, se viviamo tutti i 200 anni, viene a tutti, perché il pancreas si esaurisce. Quindi però lo posso velocizzare o rallentare. Allora berberola è uno strumento per rallentarla e andare in frenata, andare sempre più piano, in modo che il tragitto da fare è sempre più lungo. Questo è quello che realmente noi possiamo fare, non solo con berberola, anche con i farmaci. Perché storia naturale. Se vogliamo cambiarla in maniera drastica, come ho detto prima, dieta ipocalorica, devi stare magro e attività fisica tutti i giorni. Benissimo. Questo utente ti ringrazia anche. Dice grazie dottor Di Piero, finalmente uno che sa spiegare bene. Quindi insomma, questo fa assolutamente piacere, fa assolutamente piacere. Allora, andiamo avanti. Ho un'altra bella domanda che ci fa un altro utente, che ci dice, è vero che il colesterolo buono alto può far aumentare il colesterolo totale? Io ad esempio ho 90 di HDL, ma il totale è 210. Mi devo preoccupare. Bella la domanda anche perché mi dà modo di spiegare una cosa che a cui tengo molto, no? Tutti quanti di nuovo diciamo colesterolo buono, colesterolo cattivo. L'autore di questa domanda parla di HDL, lo identifica con colesterolo buono. La domanda è, ma tu nell'intimo hai capito che cos'è il colesterolo buono e cos'è quello cattivo? Perché normalmente quando ci fa questa domanda la risposta è no, non l'ho capito. Riesco a immaginarmi, il parametro buono e cattivo è facile nella narrazione di ognuno di noi, però cos'è? Invece capire cos'è? Illumina. Allora, quando noi diciamo che facciamo l'analisi del sangue e analizziamo il colesterolo, poniamoci questa domanda. È vero? No, noi non analizziamo il colesterolo. No, noi analizziamo il camioncino che trasporta colesterolo nel mio sangue. Io analizzo i camioncini, leggo i trasportatori di colesterolo. Quindi sono, immaginiamoci nel nostro sangue, dei camion che portano colesterolo. Beh, ma ne portano tanto, poco, tantissimo, oppure girano vuoti. Allora, che cos'è l'HDL che noi chiamiamo colesterolo buono? Un camion vuoto. Mettiamo di vedere dall'autostrada al cavalcavia dei camion che portano esplosivi. Beh, uno che ne porta tanti è molto pericoloso. Uno che è vuoto non è un camion pericoloso, ma non perché è vuoto, non ha esplosivi. L'HDL è il camion svuotato di colesterolo, non può fare danni, perché non c'è più colesterolo, anche se noi lo chiamiamo colesterolo. Quindi non è colesterolo buono, non è colesterolo, è il camioncino di trasporto vuoto. Al contrario le LDL sono colesterolo cattivo, cioè sono quei camioncini belli colmi, colmi di esplosivo e da qualche parte lo stanno portando. Quindi quando io leggo colesterolo totale, io leggo tutti i camioncini, quelli vuoti, pieni a metà, quelli... Quindi sicuramente se io aumento il numero dei camioncini vuoti, beh, io quando leggo i camioncini totali dirò che sono di più. Quindi ha ragione chi ha fatto questa domanda. Io, se faccio salire il colesterolo buono, mi salirà anche il colesterolo totale. Quindi se io ho 210 di colesterolo totale e ho 90 di HDL, non mi devo preoccupare, perché praticamente metà di tutto il mio colesterolo, in realtà è non colesterolo. E' questo che è importante quindi capire. Non serve solo abbassare il colesterolo, ma è anche importante la componente buona. Più è alta, più il valore del colesterolo che ho abbassato è fantastico. Quindi se io passo da 240 a 210 e le HDL non si muovono, non è come se io passassi da 240 a 210 e le HDL salgono. Vuol dire che è sceso ancora di più, perché noi leggiamo tutti i camioncini che portano colesterolo. Le HDL sono i camion vuoti. Più ce n'è, più è irrilevante il valore del colesterolo totale. Ok, d'altra parte tu dicevi prima che uno dei parametri che ha tenuto sotto controllo è proprio il colesterolo buono, no? Sì, diciamo che nell'accezione di identificare un paziente con sigla metabolica si preferisce andare a guardare le HDL e il parametro è nell'uomo non meno di 40 e nella donna non meno di 50. Perché questa differenza? Perché l'uomo nasce qui ogni tanto, perché più spesso la donna che prende schiaffi dalla vita. Almeno sulla colesterolemia buona, l'uomo di base prende più schiaffi dalla vita di tutti. Per cui non riesci a dirgli meno di 50. Praticamente tutti, il fatto che tu sei un maschio e avrai le HDL sotto 50. Allora il medico un po' buon tempone, un po' come dire che abbraccia questo mondo maschile sfortunato, dice vabbè a te però non meno di 40, la donna non meno di 50. Perché la donna è più, come dire, protetta da quel punto di vista. Benissimo, grazie, grazie ancora per questi chiarimenti. Allora ho un'altra bella domanda che ci chiede questo, un utente, dice se una persona non ha il diabete ma non riesce a perdere peso 20 chili, può essere una sindrome metabolica? E se sì, come fare? No, detto così non c'è modo perché l'autore della domanda mi sta soltanto parlando di peso. La sindrome metabolica non è un problema di peso, nei cinque parametri io non ho parlato di peso, ho parlato di circonferenza in vita, quindi se io sono un po' sono alto un metro e novanta e ho 20 chili in più del normale, quindi sono in sovrappeso, ma questo grasso è praticamente tutto ben sparpagliato, dal collo al polpaccio, no? Per cui la mia forma comunque è rispettata, sono un individuo in sovrappeso, ma se quello è l'unico parametro medico sballato non ho la segna metabolica. Se invece io sono così e sono insulino resistente e magari leggermente iperteso, no, allora ho sindrome metabolica, quindi i rischi per la mia vita sono maggiori. Cioè la diagnosi di sindrome metabolica vuol dire un rischio di morte maggiore che non semplicemente essere in sovrappeso o obeso, ma senza sindrome metabolica. Sindrome metabolica sono tre parametri dei cinque che vi ho detto all'inizio, in cui non c'è il peso, c'è la circonferenza in vita, perché è un peso localizzato, come dire, nei visceri, ma se equamente distribuito e gli altri quattro parametri non ci sono, quello non è sindrome metabolica, è sovrappeso, che è sempre un elemento di rischio per la vita, ma leggermente meno che non avere una diagnosi di sindrome metabolica, che è un rischio maggiore. Benissimo, grazie. Abbiamo un utente che sta prendendo il Berberon e ci dice questo, a me è stato prescritto il Berberon K e mi trovo molto bene, valori sotto controllo, olè. Mi è sembrata veramente carina che non ho saputo resistere al pubblicare questo commento. Sì, sì. Berberon K è un'altra versione, è una, come dire, una versione ancora più, per certi versi, un po' più spinta, chiamiamo così, di questo nutraceutico originale che si chiamava Berberon. Berberon, la versione K è ancora più efficace, soprattutto sul parametro colesterolo, perché sfrutta ulteriori sinergie, quindi fa diverse cosette che poi nell'insieme producono una riduzione del colesterolo ancora più netta. Perfetto, quindi olè, ci sta l'olè della nostra Priscila. Benissimo. Senti, ho un'altra bella domanda che ci fa un altro utente che ci parla di cosa si deve fare quando ti dicono che hai il fegato grasso. Il fegato grasso è una condizione dismetabolica nella quale il mio fegato, probabilmente quasi nessuno, a meno che non sia un sanitario, un medico, un biologo, è difficile che chi ci sta ascoltando abbia mai in qualche modo sezionato un organismo vivente. Se si seziona, però, trovi dei colori diversi. Per esempio, il fegato è rosso scuro, proprio un rosso vivo scuro, sembra quasi vino, per dire, no? Quando tu invece guardi un fegato grasso, è pieno di puntinature bianche, più rosato, sembra quasi un polmone, no? Più rosa come colore. Perché? Perché il grasso gli entra dentro e questo grasso non è colesterolo, sono trigliceridi. Allora, in quella condizione l'epatocida, cioè la cellula del grasso, non fa più perfettamente il suo lavoro, non riesce a farlo. La domanda è qual è il lavoro del fegato? Il fegato è un filtro, è come il filtro che noi mettiamo, non so, nel lavandino o nel piatto doccia per non far andare dentro i capelli o le schifezze, otturare il tubo. Allora, il fegato si pone a filtro tutto ciò che è schifezze, dai virus, ha detto sì, arriva il fegato e il fegato le spacca, le disintossica, ci protegge. Ogni cosa che introduciamo in bocca prima va al fegato. Se il fegato dice è ok, lo fa andare in tutto il resto del corpo. Ora, se il potere del fegato è questo, tu capisci che se lui si infarcisce di grasso, non funzionerà più bene come filtro, lascerà passare sostanze velenose, no? Poi lui stesso arriverà addirittura a morirci di tutto questo grasso. Quindi il fegato grasso è un grosso problema. È un problema che si riscontra soprattutto nei mangioni, diciamo, nei mangioni, oppure negli etilisti, in quelli che fanno un consumo di alcol molto importante. Ed è un guastare una specie di angelo custode nel nostro corpo, che è il fegato. Quindi proteggiamolo, pensiamo tutti a proteggere molto il cuore, magari il cervello, ma il fegato è pazzescamente importante. Senza di questo ce ne andiamo, no? È il filtro che ci protegge, la rete che scherma un po' da tutto. E alcol e sovralimentazione sono le cose che lo costruiscono in questo modo. Quindi di nuovo, farmaci tra l'altro per il fegato grasso, cioè costruiti per proteggerti dal fegato grasso, non ce n'è. Quindi di nuovo, possiamo tornare indietro? Sì, se non è una condizione molto gravosa, di nuovo possiamo rallentare il processo, anche invertirlo. Dieta ipocalorica, azzeramento delle fonti d'alcol e attività fisica, che mi renderà insulino sensibile e tenderà a riportare il fegato in una condizione sicuramente migliorativa. Avere il fegato grasso non è un parametro di sindrome metabolica, diciamo che è già una conseguenza. È come dire, il diabete non è un parametro della sindrome metabolica, è una sua conseguenza, cioè chi aveva la sindrome metabolica poi diventa diabetico, chi aveva la sindrome metabolica diventa uno con fegato grasso. Quindi non fa parte dei parametri con cui le identifichiamo, ma fa parte delle conseguenze. È già un punto ancora superato, più grave. Però di nuovo, se non è una condizione veramente grassa, veramente pericolosa, cioè non c'è un fegato infiammato, è solo grasso, c'è particolarmente ricco di particelle di trigliceridi, una bella dieta epocalorica, un qualche bel integratore epatoprotettivo, è attività fisica in maniera importante e si può tornare quasi normali. Ok, benissimo. Grazie, spero che abbiamo tranquillizzato quest'utente. Ne abbiamo un altro invece che ti voglio sottoporre, perché ci dice questo, dice nonostante dire i testili di vita corretti, poi bisogna vedere lui che cosa intenda per cosa lui o lei, cosa intenda per corretti, ho sempre valori di glicemia e colesterolo sopra la norma. Che fare? Beh, prima abbiamo detto, scherzosamente abbiamo detto, pensiamo al cibo buono, pensando alla qualità, ma non consideriamo la quantità. E poi abbiamo detto un'altra cosa, abbiamo detto che il colesterolo, la dieta, insomma non è detto che riesca a aiutarti molto, perché io ho comunque un fegato che geneticamente lo rendi a tuo papà e mamma e lui produce tanto colesterolo. Quindi, nonostante una stile di vita corretti, che la colesterolemia sia elevata, ci sta, è pieno zeppo di ipercolesterolemici che non hanno nessun altro problema e il loro fegato che produce molto colesterolo. Per quanto riguarda la glicemia, tendenzialmente dissento, a meno che non ci siano problemi di natura endocrinologica, malattie ovariche, se no un lifestyle corretto, dove però lifestyle corretto vuol dire mangiare giusto, quindi molto meno di quello che facciamo, qualitativamente e quantitativamente, e fare sport, no, la glicemia. Guardi, se uno mangia anche solo normale e fa sport tutti i giorni, lui vede la glicemia che scende, perché fare sport irrobustisce nella muscolatura e il muscolo è goloso di zucchero, lo assorbe, fa da carta assorbente e lo toglie dal sangue. Quindi chi fa sport ha glicemia bassa, a meno che non ci sia una rare malattia genetica o disturbi endocrinologici, ma non riguardano, sono occasioni, situazioni veramente molto poche. Se io faccio sport, la glicemia scende. La glicemia, lo sport è molto forte sulla glicemia. Fare attività fisica e irrobustire la muscolatura vuol dire aumentare la quota di carta assorbente e quindi avrai il pavimento sempre più asciutto, cioè togli glicemia. Quindi dissento la questione di glicemia. Vuol dire che forse l'autore della domanda ritiene di avere uno sito di attività corretto che però non è come lo intendo io, come l'ho raccontato io, che è un po' talebano, eh, lo ammetto. Però è così. Beh, il tema di cui abbiamo parlato prima, per esempio quello della frutta, molte persone sostengono che mangiare frutta, no, faccia bene, che è vero, però poi... Sì, certo che fa meglio che non mangiare pancetta a colazione, hamburger ultra fritti o sulla piastra dalla mattina la sera, certo, allora buffati di mele, è ovvio, eh, però non è proprio così. La mela è il dolce, dovremmo costruire la mela come il dolcetto, una bella mela, una Fuji, una Pink, quella è il dolcetto, mi fa la bocca, perché la parte fibra la ricavi invece dal mondo a foglia verde, dai legumi, dai grani antichi, da questa roba qua. Quindi potremmo proporre la mela al posto del frutto, la famosa mela al giorno, che la vai mai dico di la mela al posto del dolce, che vuole di dire? La mela al posto del dolce, sì, 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 assolutamente. Ah, sì, sì, se proprio... Certo. Se proprio non se ne può fare a meno, se proprio non se ne può fare a meno. Va bene, senti, qualche utente mi chiedeva di ribadire i nomi dei due integratori di cui abbiamo parlato prima, quindi vi riporto qui sotto, sono Berberol e Berberol K, perché era curioso ovviamente di conoscere il nome degli integratori, scusate ma ce lo chiedete ancora noi sempre. Io aggiungo, io aggiungo FiberMet, che è uno degli integratori a contenuto in fitosteroli e fitostanoli più elevato in Italia e uno dei più documentati anche nella letteratura scientifica. Permettimi di aggiungerlo, dai, io sono io che ho lanciato anche il tema dei fitosteroli, perché nell'ambito della colesterolemia, per esempio, sono sicuramente molto efficaci. Mi puoi ridire correttamente il nome, Fito? Ah, si chiama FiberMet. FiberMet, ok. Ricorda un po' Metformina con questo nome? Met sta per metabolico, la fibra che aiuta i metabolismi. Ok. E che fa due cose, da un lato ti sequestra il colesterolo, quindi fa un po' da ezetimibe, è la controparte farmaceutica, i fitosteroli tolgono proprio il colesterolo, lo raccolgo, cioè lo ingannano, lo catturano, tu non lo puoi usare. E in più è un una sostanza che fa da fibra frenante. Tanti anni fa si parlava di fibra che potesse rallentare l'ingresso dello zucchero nel sangue, perché non è soltanto quanto zucchero c'è nel sangue, ma è anche importante, però bisogna dedicare un'altra puntata a questo, a quanto velocemente ci arriva nel sangue. Cioè se io in dieci minuti passo da glicemia 90 a glicemia 120, oppure passo da 90 a 120 in tre minuti, è uguale, arrivo a 120, cambia qualcosa? Sì, sì. Cioè tanto più cambia velocemente, tanto è peggio, perché tanto più spaventa il pancreas e il pancreas quando si spaventa, perché vede arrivare, come dire, questo veleno metabolico, lo zucchero nel sangue, tanto velocemente, tanto più, pur di salvarti la vita, ti riempie in onda di insulina e l'insulina è un problema. Se invece lo zucchero sale lentamente nel sangue, il pancreas non si preoccupa e butta un quantitativo corretto di insulina, che va meglio. Quindi usare prodotti come Fibramet, che funzionano da fibra frenante, cioè fanno entrare lo zucchero nel sangue lentamente e anche quello è un vantaggio, anche per la sindrome metabolica. Benissimo, perfetto. Quindi alla domanda che ci fa quest'utente, che è questa qua, ci sono soluzioni naturali alternativi alla metformina per contenere la glicemia? Sì, la glicemia basale la possiamo contenere utilizzando molta fibra, banalmente fibra di psilio, fibra di glucomannano, perché facciamo da effetto frenante e la rallentiamo. Oppure di nuovo usando la berberina, perché la berberina attraverso vari meccanismi d'azione tende a essere un anti-iperglicemico, cioè impedisce le iperglicemie, cioè l'arrivo di tanto zucchero nel sangue e anche tanto rapidamente. Quindi questi sono i modi basic e anche a profilo di sicurezza elevatissimo con cui possiamo contenere la glicemia. Però permettetemi di fare l'uomo di scienza quale io spero di potermi sentir dire. Mi raccomando, dieta ipocalorica, attività fisica, cambiano, sono due cose che se attuate cambiano la salute di tutte le persone. Benissimo, perfetto. E con questo messaggio che tra l'altro ecco non prevede l'assunzione di farmaci, non prevede, è semplice da fare no? In qualche modo lo possiamo fare più o meno tutti. Direi che ci possiamo salutare. Grazie Francesco per essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, siete arrivati a un certo punto, eravate 2300, quindi grazie, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Una buona serata a tutti. Arrivederci, arrivederci a tutti. Grazie Francesco. Bene, com'è andata?